La sensazione introversa si riferisce prevalentemente al soggetto e solo secondariamente all'oggetto. Infatti abbiamo una sensazione solo in presenza di due elementi, un oggetto da percepire, un soggetto percipiente. Mentre nella sensazione estroversa l'oggetto è più importante del soggetto, nella sensazione introversa il soggetto, o meglio il fattore soggettivo, è più importante dell'oggetto. E voi direte, ma allora non c'è una percezione reale, autentica, affidabile? Io sono Noemia Spasia Marcialis, sono una psicologa clinica, continuiamo lo studio dei tipi psicologici di Jung e ovviamente sei benvenuto o benvenuta. Pensa all'esempio di un gruppo di pittori che devono rappresentare tutti il medesimo paesaggio. Non lo rappresenteranno nello stesso identico modo, a prescindere questo dalle capacità tecniche, dalla perizia delle singole pittrici, dei singoli pittori. Le rappresentazioni saranno diverse perché in forza del loro fattore soggettivo vedranno cose diverse. Come avviene la sensazione introversa? C'è l'oggetto che esercita la sua influenza, c'è il soggetto percipiente e ci sono i contenuti inconsci che quasi si interpongono tra oggetto e soggetto. Quali contenuti inconsci? Immagini primordiali, immagini mitologiche. È come se l'oggetto si rispecchiasse entro questo tipo di corredo di immagini. È come se al di là del momento presente con le caratteristiche contingenti dell'oggetto, il soggetto lo rivestisse anche di passato e di futuro. È come se fossimo di fronte a una persona che può percepire l'eternità del tempo. Questa è un'altra differenza tra sensazione estroversa e sensazione introversa. La sensazione estroversa, lo abbiamo detto, è ancorata, imbrigliata al presente, schiava dell'esterno e deve godere. La sensazione introversa riesce a vedere come era un oggetto prima di questo istante in cui lo sta osservando e come diventerà l'oggetto. Ribadiamo quindi che il fattore soggettivo prevale su quello oggettivo. siamo necessariamente nell'ambito delle funzioni irrazionali. Sappiamo che le funzioni sono quattro pensiero, sentimento, intuizione, sensazione. Intuizione e sensazione sono irrazionali. La sensazione introversa forse è la più irrazionale di tutte, cioè siamo di fronte a un soggetto irrazionale, non ce l'ha una scelta a priori. Sceglie in base a ciò che accade e dall'esterno nessuno sa in che modo sarà influenzato dalle sue percezioni. Quindi a parità di stimolo, per esempio, mettiamo un gruppo di bambine tutte di fronte alla luce solare. Non sappiamo come una bambina di sensazione introversa possa reagire alla luce solare. In questo li definiamo irrazionali, ma è anche vero che essendo comunque degli introversi, tranne nel caso di artisti creatori, quindi i pittori proprio per eccellenza, per fare un esempio, non si esprimono. Quindi tutte queste percezioni soggettive in cui vedono l'oggetto in questa maniera appunto sub specie eternitatis, dice Jung, quindi lo vedono nel suo continuum temporale e quasi il momento, l'istante presente sembra irreale. Ecco tutto questo non lo esprimono tendenzialmente, sembrano persone tranquille e passive. Ora qual è la peggiore deriva morbosa che possiamo immaginare per un tipo di sensazione introversa, è la psicosi. Qui è proprio la psicosi. Vi ricordate abbiamo parlato per molte settimane dei meccanismi di difesa e me a massima colpa non vi ho fatto, non vi ho spiegato i meccanismi di difesa psicotici, cioè non vi ho spiegato dentro il DSM quarto, perché io il quarto comunque DSM 5 uguale, non vi ho spiegato il livello più in basso delle difese, il primo livello, che sono le difese da disregolazione difensiva o psicotiche. Non l'ho fatto per questioni di tempo e perché riguardano veramente un'esigua minoranza della popolazione. Queste difese prevedono la negazione psicotica, la distorsione psicotica e la proiezione delirante. Questo può interessare il tipo sensazione introversa, perché stiamo dicendo che se già lui prevale sull'oggetto, cioè quello che ha all'interno del suo inconscio, queste immagini primordiali avvolgono l'oggetto che sta percependo, figuratevi se il soggetto proprio sopraffacesse del tutto l'oggetto. Si sconfine in psicosi, quindi negazione psicotica, hai ucciso i tuoi figli ma hai rimosso sia il contenuto cognitivo che quello affettivo, quindi non li hai uccisi, però li hai uccisi ma stai dicendo il vero a tuo avviso quando dici che non li hai uccisi. Negazione psicotica, proiezione delirante, sgombrate l'edificio, mi stanno avvelenando inserendo il gas nervino nel condotto dell'aria. Distorsione psicotica, sì l'ho stuprata e l'ho uccisa però perché lei mi ha provocato con questi movimenti sensuali eccetera. Quindi questa è la peggiore deriva che può avere un tipo di sensazione introversa. Invia questo video alla persona alla quale serve di più, grazie di aver ascoltato, iscriviti al canale, baci e benedizioni!